Il governo ha tagliato i fondi al bando per le periferie, ma Vicenza, col suo progetto di Parco della Pace, ne è uscita indenne. Ora che venga creato un grande prato da 650.000 metri quadrati, non è certo, ma la vegetazione sta già crescendo lentamente in un vivaio di Montecchio Precalcino. Il piano, annunciato più di un anno fa dalla precedente amministrazione, ora potrebbe essere rivisto dalla giunta di Francesco Rucco. Intanto però le zolle di erba ci sono. Tra tante polemiche il prato è cresciuto, lui sì, silenziosamente.